E di due feriti, di cui uno ricoverato in prognosi riservata, è il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata di mercoledì in via costa, nei pressi della rotatoria che sorge a pochi passi da un supermercato. Ad avere la peggio i due passeggeri che viaggiavano a bordo di un ciclomotore, un sedicenne nisseno e la fidanzata, dopo che il mezzo a due ruote si è scontrato con una minicar, su cui viaggiavano due ragazze minorenni. In conseguenza dell'impatto il sedicenne e la fidanzata sono caduti e il ragazzo ha subito dei traumi per i quali è stato necessario sottoporlo ad intervento chirurgico per asportargli la milza e i medici adesso stanno anche monitorando le condizioni di urrene. La ragazza ha subito alcune contusioni mentre non hanno riportato ferite le giovani che viaggiavano sulla minicar.